Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. A San Pietro termineranno prima dell'estate i lavori sul selciato di Via dei Corridori, strada parallela a Via della Conciliazione che per il giubileo sarà riqualificata. Il cantiere rientra nel cosiddetto piano San Pietrini che complessivamente interessa 14 chilometri di strade. L'intervento oltre alla posa dei San Pietrini permette anche una maggiore resistenza della strada e quindi di dilatare i tempi di manutenzione. Sarà rifatto anche il marciapiede, l'intervento a Via dei Corridori rientra in quello più ampio che sta interessando Piazza Pia. A breve partiranno i lavori anche, tra le altre, su Via Rusticucci e Borgo Sant'Angelo.